www.feyyaz.tv Vado dieci giorni a cuba con vostra zia caterina e noi con chi restiamo scusa con papà con papà e poi non so se hai capito che inferno ti aspetta tu non sei in grado di gestire tre figli da soli l'inserimento funziona che un genitore resta qui con noi perché il bambino è tranquillo posso andare no ti dico che non ce la fa mamma vai datti in affonata che andiamo non è facile per lui più lavora tutto il giorno ma vorrei che tutti fossi come un po seduto no anzi figuriamoci aiuto papà Tito Tito stavamo facendo un agguato ve la spaffate eh che invidia allora sui bambini fanno molto effetto coniglio però magari su di lei bello si hai idea di cosa pensano i suoi figli di lei no aiuto carlo vuoi che torni ma ti sono cresciuti i denti no è che ho sfumato alto il taglio dei capelli ora c'è questo effetto di allungamento del viso e la farina tutta matta grazie a tutti